Noi ci siamo ribellati e ci ribelliamo perché l'emergenza è diventata la continuità, la norma e quindi ci siamo appellati da un lato da tempo al Presidente della Regione che deve provvedere a dare risposte, a governare il fenomeno dei rifiuti. Invece il nome dell'emergenza continua ad accordare ancora tempo alle discariche e quindi queste discariche si riempiono e non c'è un'alternativa. Qui ci siamo rivolti proprio ieri al Ministro Galletti che si occupa dei rifiuti, che si occupa dell'ambiente per trovare una soluzione nuova. Abbiamo fatto una denuncia alla Procura della Repubblica, l'ennesima denuncia.